Stasera Outdoor Christmas Night, in cosa consiste e qual è lo spirito di questa iniziativa? Lo spirito è quello di aggregare i giovani e le persone di Cisano e anche di fuori, qua in paese da noi, di offrire un po' di panettone, un po' di auguri a tutti quanti, ma soprattutto di promuovere quello che è l'Outdoor Festival. Abbiamo rimesso in piazza la nostra attrattiva principale che è l'arrampicata, poi alla mia sinistra qua in piazza faremo un'esibizione di moto elettriche da trial e bici mountain bike con i nostri campioncini e poi per finire una 5 km itinerante tra il centro storico di Cisano e la collina qua adiacente con le torce per far divertire un po' i nostri ragazzi ma per dare la possibilità anche a qualche atleta di tenersi in allenamento per la stagione. E l'appuntamento che ora è, lo ricordiamo? L'appuntamento incominciamo intorno alle 7 con lo spazio libero per i bambini per potersi esibire, per poter guardare le biciclette e poi verso le 20 e 15 inizieremo con la gara di corsa e poi tutti insieme a festeggiare con panettone e bottiglie offerte dall'amministrazione.